Noto, i carabinieri arrestano un 49enne per un ordine di esecuzione pena. I carabinieri della stazione di Noto hanno arrestato un pregiudicato 49enne del luogo in ottemperanza a un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Siracusa poiché riconosciuto colpevole di diversi abusi ed edilizzi commessi nella città barocca dal 2011 in poi. L'uomo condannato alla pena di sei mesi di reclusione nonché alla multa di 15.500 euro è stato rintracciato dai militari e dopo le formalità accompagnato nella propria abitazione dove sconterà la condanna.